Ciao, meravigliosa Queen! Benvenuta a questo nuovo allenamento! Allenamento per aiutarti a eliminare la pancia, il grasso in eccesso sui fianchi, sulla schiena, in tutto il corpo così che puoi rientrare nei jeans che hai chiuso nell'armadio e tutti quei vestiti che ti piacciono un sacco. Sei pronta? Prima di iniziare tocca subito sul like, iscriviti al canale e attiva le notifiche così non perderai niente. Ogni volta che io pubblico un esercizio lo saprai. E ti faccio subito vedere qual è il primo esercizio che faremo oggi, un affondo. Se sei principiante appoggia la mano sul muro, su una sedia, dove vuoi e fai questo movimento di andare giù e su, giù e su. Se sei già allenata il movimento è un pochino più complesso. Vai a terra, tocco così e poi mi fai un calcio. Tocco e calcio. Bello, vero? Vai a terra, fai questo, fai questo esercizio, poi vai a terra. Mi fai un piegamento sulle braccia. Hop, su, hop, su. E ti metti su in piedi e fai l'altra gamba. Sei pronta per il riscaldamento? Oh yes! E su, inspira, espira, su bene vai, espira, ultima vai su, allunga bene verso l'alto, laterale così da un lato, cambio laterale bene dall'altro, apri le braccia, muovi le spalle e poi vai con le gambe. Uno, due, uno, due. Vai, 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 alterna. Hop, 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 vai, vai, gira il braccio, via. Gira, 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 gira. Vai, così, bravissima, insieme. Hop, 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 perfetto. Tre, due, muovi i polsi, gira, gira, gira con un bellissimo sorriso. Vai, vai, nell'altro senso, ci prepariamo per i piegamenti. Vai, vai. Quattro, tre, due, cambio, così. Hop, 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 mentre fai questo movimento con le braccia, abbassi i glutei, scendi, 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 giù, giù, peso indietro, mai sulle ginocchia. Hop, 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 bravissima. Tre, due, talone avanti, avanti, avanti. Mentre vai col tallone avanti, spingi le mani in alto. Vai, vai, uno, due, così, bravissima. Hop, 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 talone indietro, vai, dietro, punta indietro, vai, vai, hop, 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 perfetta. Vai, 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 così. Quattro, tre, tallone ai glutei. Hop, hop, muovi le braccia, sorridi, vai, vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Tocco il piede indietro, vai, 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 così. Bello, vero? E lei ne sono scordinata, tu non ti preoccupare. Col tempo si migliora, cambio. Hop, 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 vai, 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 così, ancora. Un, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Guarda le mani grandi. Hop, 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 vai, bravissima. Ancora, su, 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 abiduzione. Apre, 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 vai, 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 vai. Bello, bello. Hop, 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 perfetta. Tre, due, stop. Mettiti nella posizione della corsetta e vai. E ti ricordo di lasciare il tuo commento alla fine dell'allenamento perché voglio sapere com'è andata. Ovviamente. Voglio sapere cosa combini lì mentre io non ti vedo. Cambia lato, vai. Così, respira. Bravissima. Vai, 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 vai. Preparati che tra pochi secondi partiamo. Pronta? Go, vai. Scendo, calcio. Scendo, vai. Normale per l'equilibrio. Tipo quello che faccio io. Vai, scendi, tocco, scendo, stop. Andiamo subito a fare il nostro piegamentino. Bellissimo. Se sei principiante lascia le ginocchia a terra, scendi con le ginocchia a terra, ok? Se sei allenata, tanti auguri. Vai. Poi devo ammettere che questo non è l'esercizio più amato dalle mie allievi. Vai, su, giù, su. Però nota che appena lo fai, senti già il tuo corpo tutto attivo. Ho scelto esercizi bellissimi perché la fondo coinvolge tanti gruppi muscolari e anche pettorali. Ed è questo che ci permetti di ottenere grandi risultati in pochi minuti. Ti ricordo che questo non è un allenamento completo. Ops, era un'altra gamba, sorry. Aiuto, 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 Laine. Perché io parlo, vado, faccio occasione. Vai. Scendo. Perfetto. Adesso sì, andiamo a fare il piegamento. Quindi siamo già meravigliosamente nel secondo giro. Vai. Scendi. Scendi. Su. Scendi. Su. Scendi. Vai. Up. Su. Up. Su. Up. Wow. T'ho detto, eh? Senti già. Tu fisico attivo. Tocco. Scendo. Tocco. Scendo. Vai. E giù. Vai. E giù. Respira. Ok. Ultimi tre. Passo in fretta, vero? One. Go. Ti ricordo che questo non è un allenamento completo, ma è un assaggio per farti capire come puoi trasformare il tuo corpo in pochi minuti. per te che sei lì, che ti lamenti, che non hai tempo, che sei incostante. Bastano venti minuti. Vamos. Via. Giù. Su. Giù. Su. Giù. Vai. Up. E. Respira. Vai. Su. Giù. Su. Giù. Forza. Giù. Ah. Stop. Ultimo esercizio. Contenta. Via. Tocco. Allungo. Vai. Scendo. Tocco. Scendo. Vai. Rispirando. Hop. Ehi. Hop. Ehi. Stop. Bravissima. Super brava. Respira. Rilassa le spalle. Così. Molto bene. Allunga quadricipiti. Seguimi su Instagram. Così. puoi partecipare. Alla settimana gratuite. Quando io. Apro le iscrizioni. Preparati. Ti divertirai un mondo. E proverai soprattutto. Un allenamento completo. Respira. Ah. E normalmente qui. Su YouTube. C'è anche un link. Dove ti puoi iscrivere. Alla settimana gratuite. Guardare le date. E capire quando puoi partecipare. Ti aspetto. Fai la brava. Molto bene. Ispira. 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 E cambio. Perfetto. Incrocia indietro le dita e spingi le mani verso il pavimento. Apri bene il pettorale. Così. Sei bravissimo. E un bel respiro su. Espira. Su bene vai. Espira. Questa è l'ultima. Vai su. Avvicina. Braccia. Gambe. Fai un bel inchino in avanti. Grazie. Mille. Sei pazzesca. Buongiorno. 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 Grazie a tutti.